Una delle dimore cinquecentesche più suggestive di Ferrara, Palazzo Naselli Crispi, è uno dei manufatti più significativi della bonifica idraulica italiana e mondiale, l'antico stabilimento idrovoro di Codigoro. Sono stati questi i beni culturali del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che sabato 15 e domenica 16 maggio hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate di primavera del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. C'è da dire che il palazzo è il palazzo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Ci sono gli uffici all'interno di questo palazzo per cui non è pubblico. Ci sono stati dei restauri che adesso hanno portato anche il Consorzio a pensare di aprire le sue porte. Non l'abbiamo potuto fare dopo restauri per via del Covid. Oggi approfittiamo delle giornate del 15 e del 16 maggio, appunto le giornate FAI di primavera, per aprire le porte a tutta la cittadinanza. Tutti coloro, ovviamente nel rispetto delle regole, perché questo è assolutamente da dire, che vogliono venirlo a vedere. Il Consorzio di Bonifica ha accolto con grandissimo favore il fatto che il FAI abbia deciso di inserire il palazzo Nesele Crispi e anche l'impianto di sollevamento, un'opera ingegneristica meravigliosa di Codigoro nel percorso di quest'anno, perché crediamo che le bellezze, il palazzo e l'importanza degli impianti per il nostro territorio e per il nostro paese, come quello di Codigoro, siano centrali e debbano essere a disposizione, oltre che al servizio, dei cittadini. Abbiamo atteso questa giornata veramente per tutti questi mesi in cui il FAI, le nostre delegazioni hanno lavorato un po' a scartamento ridotto, ma sempre molto all'interno e preparandosi, preparandosi proprio in particolare per queste due giornate che ci vedono ai blocchi di ripartenza. Siamo veramente felici, i volontari sono carichi, come si suol dire proprio. Abbiamo avuto anche molte prenotazioni, quasi tutti i nostri siti dell'Emilia Romagna aperti, esauriti dalle prenotazioni dei primi giorni, quindi da un lato con un dispiacere per chi poi non può visitare, dall'altro con gioia, perché vediamo che anche i visitatori, anche i potenziali fruitori dei siti che apriamo sono tanti ed entusiasti evidentemente per aver prenotato così presto. Palazzo Naselli Crispi vanta l'originale cortile interno, le meravigliose stanze dai soffitti affrescati e il Catasto Carafa, con preziose opere cartografiche del 1779. La sede amministrativa di Borgo Leoni, ancora sconosciuta a molti ferraresi, ha riaperto le porte dopo gli imponenti lavori post-sisma. Il palazzo viene costruito tra il 1533 e il 1536, ovviamente il tutto comincia prima, comunque è su commissione di Giuliano Naselli, l'architetto che l'ha progettato è Girolamo da Carpi ed è molto importante perché è un pezzo unico dell'architettura civile ferrarese del Cinquecento. Girolamo da Carpi ha in questo edificio, si ispira all'antichità classica, si ispira all'architettura romana che vede probabilmente nei suoi viaggi precedenti al 1530 a Bologna, a Milano, a Milano con le architetture del Bramante e quindi viene a conoscenza di un'architettura diversa da quella di Ferrara, della città estense che è la sua città e quindi la mette qua in pratica. Per cui abbiamo questa bellissima corte di ispirazione chiaramente classica, abbiamo anche una facciata molto bella e che dire, questo è restituito alla città dopo un paio d'anni di restauri. I restauri hanno riguardato in parte il recupero dai danni da sisma e quindi con tutta una serie di adeguamenti anche strutturali, miglioramenti strutturali e il consorzio con fondi propri ha poi messo in pratica tutta una serie di lavori di restauro e quindi che hanno messo, dove sono emerse decorazioni pittoriche, parti di strutture che erano celate sotto i controsofitti, quindi li abbiamo tutti rimessi in vista, diciamo così, e poi tutto anche l'adeguamento impiantistico e quindi un importantissimo lavoro di restauro e ristrutturazione. Il restauro è stato importante e dovete tenere presente che nel 2010 quando ci furono i primi passi concreti dell'unificazione dei tre consorzi, primo circondario, sede Borgo dei Leoni, via Mentana, secondo circondario e Vali di Vecchio Reno in via dei Romei e concentrammo la parte amministrativa qui in Borgo dei Leoni e la parte tecnica in via Mentana e cominciai a frequentare questo palazzo perché io come dico ero presidente del secondo circondario e insieme all'amministrazione ci rendemmo conto che tutto sommato la parte monumentale, quindi l'ufficio di presidenza, il salone del consiglio, aprirlo o utilizzarlo soltanto pochi giorni all'anno era in parte sostanzialmente sprecato e quindi cominciamo a fare un progetto. Inizialmente utilizziamo il chiostro, il cortile interno per i nostri premi, poi nel 2012 il tremoto ci mise in difficoltà. Cominciamo quindi a lavorare assolutamente per mettere in sicurezza il palazzo perché è un luogo di lavoro e poi si cominciò a ragionare di un progetto di conservazione e di ristrutturazione completa. Devo ringraziare all'epoca l'ingegnere Tebaldi che era nostro direttore tecnico che lavorò per una stima importante con la compagnia assicurativa per distinguere i danni del tremoto dai danni di una certa vetustà, quindi fu un lavoro complesso. Sia grazie alla quota assicurativa sia grazie a un mutuo del consorzio, perché il palazzo è in proprietà, sia a un contributo pubblico, si mise insieme una cifra importante per ottenere questo risultato che oggi vediamo e possiamo consegnare sia all'attività operativa del consorzio che anche alla città. Ancora una volta le giornate fa e sono state quindi un'occasione unica per intraprendere un viaggio alla scoperta degli innumerevoli tesori sconosciuti del nostro paese. L'Italia è piena e devo dire che proprio il luogo in cui ci troviamo è uno di quelli, è un palazzo ad uso, uffici ad uso di rappresentanza, ma sostanzialmente privato e quindi il fatto che il consorzio Bonifica Pianura di Ferrara abbia voluto proprio con noi aprire per la prima volta dopo questo bellissimo ciclo di restauri è per noi anche un grande piacere e un grande onore. Una grande responsabilità che ci lega al consorzio in particolare anche per unità di intenti sul territorio, sul modo di vedere la fruizione e la valorizzazione dei beni che non sono per il FAI solo ed esclusivamente beni monumentali ma anche beni ambientali, beni paesaggistici, beni importanti per la storia del territorio come per esempio l'impianto idrovolo di Codigoro che è davvero uno dei punti fondamentali della storia recente dell'acquisizione delle terre al mare. Codigoro è particolare perché ha queste ciminiere che definiscono la skyline di quella città e sono molto importanti e devo dire che Codigoro riesce a esprimere questo connubio che nella bonifica è importante, cioè un aspetto tecnico funzionale e un'estetica non fino a se stessa ma molto bella, che è la storia di questa provincia e di questo territorio. Sabato 15 maggio sono stati gli studenti della quarta B dell'Istituto Tecnico Alleotti di Ferrara e i giovani ciceroni che hanno accompagnato le 180 persone prenotate alla scoperta degli stabilimenti di bonifica di Codigoro. Sono state invece 600 le persone che hanno visitato nel weekend Palazzo Naselli Crispi la dimora cinquecentesca che si trova a pochi passi dal castello Estense. Abbiamo fatto delle prenotazioni solo ed esclusivamente online, 12 persone per gruppo e ci sono i volontari del FAI ma anche dei dipendenti del consorzio, del personale del consorzio che si è reso disponibile a questo e studiando, abbiamo studiato tutti un po' la storia dell'edificio, l'architettura dell'edificio e accompagneremo le persone che si sono iscritte a fare il giro del palazzo soffermandoci sulle cose che secondo noi sono identificative dell'edificio. Questa mattina il nostro ruolo sarà di accompagnare i visitatori, saremo appunto all'accettazione oppure faremo da ciceroni, quindi faremo visitare il palazzo ai visitatori e promuoveremo quello che è lo scopo del FAI, quindi il promuovere la cultura e la protezione dell'ambiente e del paesaggio e comunque di tutto il patrimonio italiano. Sono molto appassionato di arte e per me è sempre una grande scoperta visitare palazzi che normalmente sono chiusi al pubblico, per questo partecipo volentieri alle attività del FAI perché ho l'occasione di imparare sempre cose nuove della mia città, della città dove vivo, non sono originario di Ferrara ma vivo da tanti anni qui a Ferrara. Questo palazzo non lo conoscevo, avevo visto i lavori da Borgo dei Leoni e quando sono venuta la prima volta per il sopralluogo sono rimasta davvero stupita da quanto sia bello e questo restauro è veramente meraviglioso, quindi insomma è una grande opportunità per vedere un bene che è in pieno centro città ma che pochi conoscono. Non lo conoscevo prima ed è stato, come dire, un gioiellino, quindi insomma ecco grazie al FAI oggi ho l'occasione di conoscerlo e scoprirlo. Beh è una grande soddisfazione anche perché mi permetto di fare un commento, quando c'è stato di passaggio tra la mia amministrazione e la nuova, nei vari discorsi istituzionali si è detto cambiamento nella continuità, devo dire che qui c'è continuità e anche miglioramento perché dopo questo restauro così importante, immaginare di aprirlo al FAI veramente in un certo senso mi ha sorpreso, mi dispiace di non aver avuto io il tempo o l'idea di poterlo fare, quindi grande apprezzamento. Un'apertura straordinaria in tutti i sensi che rappresenta però solo un primo appuntamento con una serie di visite a palazzi e stabilimenti storici del consorzio di Bonifica. Ho visto il successo di queste due giornate nel momento in cui è uscita la pubblicità che abbiamo programmato e già in sold out e per questo abbiamo deciso che a breve renderemo notte delle date per delle visite periodiche gestite direttamente dal consorzio. Mi si è consentito per questo, oltre a ringraziare il FAI che ci ha dato questa opportunità e di farci godere di questo momento, la disponibilità di tutti i dipendenti. I dipendenti si sono prodigati, non si sono tirati indietro, oggi e domani saranno a disposizione per accompagnare le guide FAI all'interno di queste due strutture e sicuramente so che avremo collaborazione nelle prossime giornate da qui a fine anno.